Romina Power e Albano furiosi per la terribile fake news su Ilenia Carrisi, il duro sfogo Ieri, la notizia lanciata da Dago Spia secondo cui Ari Carrisi avrebbe incontrato la sorella Santo Domingo ha mandato su tutte le furie la famiglia Carrisi La storica coppia non si dà pace per la scomparsa di loro figlia Ilenia, ma le fake news sono sempre pronte a colpirli, scopriamo cosa è successo La scomparsa di Ilenia Carrisi Dalla scomparsa della figlia di Albano e Romina Power, Ilenia, il 6 gennaio del 1994, le testate di cronaca nera ancora non si fermano Un argomento che turba la stabilità della famiglia Sono passati ormai più di 26 anni da quando la donna è sparita, diventando ancora ad oggi una delle scomparse più misteriose della storia italiana All'epoca ci furono tantissime testimonianze da parte di tutto il mondo, ma ancora oggi nessuno sa cosa sia successo Poco fa, una fake news ha fatto il giro del web e la famiglia Carrisi ha deciso di intervenire, scopriamo cosa hanno detto Albano e Romina Power, Il duro sfogo sui social Ieri, si è diffusa la notizia secondo cui Iari Carrisi avrebbe incontrato la sorella a Santo Domingo, per questo Albano, Romina e il loro figlio sono intervenuti sui social Iari Carrisi ha detto Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo Quella di Ilenia è una ferita ancora aperta, sono deluso Albano, invece, dopo non molto Rimango stupito, purtroppo da anni c'è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa a vendere i giornali Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace Infine, Romina Power è andata giustamente su tutte le furie e ha rivelato Quando è che LA smetterete di riempire LA testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare Nelle ultime ore, sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno e solidarietà da parte dei fan Ciao! 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 Ciao!